Ciao, siamo i ragazzi di Corsine Lavedoli. Corsine Lavedoli è un brand inusuale, un vero e proprio lavoro di squadra a 360 gradi. Sinergie, confronti, stimoli sono la base del nostro lavoro, proprio come in una vera famiglia, seduta intorno ad un tavolo dove ognuno occupa una posizione attiva e propositiva. Oggi siamo in quattro e dire con precisione chi segue che cosa non è proprio possibile. Ogni nostro lavoro creativo è frutto del lavoro che svolgiamo con energia, passione e divertimento. Corsine Lavedoli, cuore senza macchia di tradimento. Motto della nostra città natale, Corato, in Puglia, provincia di Bari. Motto che rappresenta appieno la nostra filosofia, il nostro modo di vivere e di concepire, l'orgoglio di essere italiani e visionari. L'idea nasce dall'esigenza di ridare vita a una tradizione d'eleganza, riutilizzando l'accessorio maschile per eccellenza, rendendolo fortemente contemporaneo. Il brand nasce a fine del 2009 con il papillon in ceramica, un solo modello, 12 varianti colore. Però possiamo dire che il debutto in società è avvenuto a Firenze, a gennaio del 2010, a PT Uomo. È così che è iniziata la nostra storia. Oggi la nostra collezione si è arricchita di tanti altri prodotti, come i profumi, i ciondoli, le spille, i gemelli e i nostri prodotti icona, la cravatta con nodo in ceramica e la nostra pochetta tasca, la seramichette. Nelle ultime stagioni poi ci siamo divertiti a sperimentare nuovi materiali, come le piume applicate alla seta, il cristallo di rocca, l'ambra, il legno, il diaspro, la resina e tanto altro ancora. Ci teniamo che i nostri prodotti siano realizzati interamente in Italia. Per questo collaboriamo con realtà artigianali come piccoli laboratori e antichi gravattifici, dove è possibile sviluppare idee creative mantenendo le tecniche di manufattura tradizionale. Per creare ogni nostra collezione è come se andassimo a aprire gli armadi dei nostri nonni per far tornare di moda ciò che non lo è più. Ci speriamo al passato, ma anche alla nostra vita quotidiana e materiali e oggetti semplici. Ci speriamo a molti mondi, per questo ci piace pensare che i nostri accessori si adattino a molti tipi di persone e a svariate situazioni, dall'uomo classico al modaiolo, da un evento come la cerimonia fino ad arrivare a un parte esclusivo. Nella mente e nel cuore abbiamo tante cose, tanti sogni, tanti progetti, che stiamo cercando di realizzare da soli con le nostre forze, ma anche con l'aiuto di chi ha creduto e crederà in noi. I would love to see the day, the day was mine.